Mariela Nobiletti, Consorzio Gargano Mare, ci sono prenotazioni per Pasqua? Certo, stiamo lavorando proprio in questi giorni per le vacanze di Pasqua, stanno arrivando le prenotazioni e mancano ancora due settimane, quindi abbiamo il tempo di prenderle e di organizzarci. Si può parlare di già tutto esaurito per quella settimana? Mi sembra un po' prematuro parlare di tutto esaurito, stiamo lavorando bene perché ovviamente abbiamo fatto un buon lavoro, però ovviamente ricordiamo noi le prenotazioni di Pasqua vengono prese sempre sotto data perché abbiamo sempre la variabile meteorologica che ci condiziona. Si prevede un'estate da grandi numeri come il 2022 con il valore aggiunto dell'aeroporto Ginulisa di Foggia, cosa potrebbe significare? Potrebbe significare un aumento del lavoro soprattutto nei periodi di bassa stagione e nei weekend, e questo ci farebbe molto molto comodo perché ovviamente essere facilmente irraggiungibili significa dare incremento appunto all'occupazione. L'unica cosa che in questo momento abbiamo la necessità si sviluppino siano i collegamenti perché c'è la necessità di collegare l'aeroporto a tutte le altre destinazioni, in primis ovviamente alla costa e in questo momento mancano questi collegamenti. È fondamentale che anche nella città di Foggia si diano da fare per sviluppare questo tipo di business. Da Vieste ci spostiamo a Peschici presso il villaggio Ialillo, uno dei più sinomati della costa garganica in procinto di aprire. Ma ci sono già prenotazioni per Pasqua, Marco Ranieri? Diciamo che per Pasqua noi stiamo iniziando a ristrutturare tutto, come prenotazioni abbiamo abbastanza richieste, siamo pronti, siamo pronti per accogliere i primi clienti per questa stagione estiva 2023 che ormai è alle porte. Cosa prevedete sia per questa settimana di Pasqua che soprattutto per la stagione estiva? Allora, diciamo che per questa settimana di Pasqua non ci possiamo lamentare, abbiamo una richiesta abbastanza sufficiente, clienti vecchi sono ritornati tutti per questa stagione. Per la stagione estiva invece non ce l'aspettavamo, siamo più del 30% in più rispetto agli altri anni con tutte le prenotazioni del nostro plesso turistico. Dopo aver sentito gli operatori di Vieste e Peschi ci sentiamo anche quelli di Vico del Gargano, di San Menario nella Fattispecie, siamo con Bruno Granieri che è il presidente della Proloco di San Menario. Ci sarà questo annunciato boom di presenze nella settimana di Pasqua anche qui? Allora, questo boom di presenze per la settimana di Pasqua credo che sia azzardata come previsione. Certamente a supporto di questo dato possiamo dire che in pari periodo la richiesta di prenotazioni già confermate, ma per la stagione estiva è decisamente nei numeri più avanti. Pasqua probabilmente dovremo contare su un meteo benevolo e sulla possibilità last minute, diciamo per la maggioranza delle strutture turistiche di San Menario e Calenella, di riempirsi diciamo più che nelle strutture, sulle spiagge, sulle strutture ristorative all'ultimo momento. Cominciano ad arrivare le prime telefonate anche per prenotare la vacanza estiva? Su quello, come dicevo prima, siamo parecchio avanti. Diciamo che considerando il pari periodo in rapporto agli anni passati, siamo già a un più 30% abbondante, quindi grande ottimismo almeno per la stagione. Si sta dimostrando valore aggiunto l'aeroporto di Foggia o ancora no? Allora, l'aeroporto di Foggia certamente inizia ad essere un valore aggiunto. Andrà fatto uno sforzo per collegarlo alle strutture ricettive del Gargano, però certamente anche da quel punto di vista siamo ottimisti. Paolo Valente, Assessore del Turismo di Mattinata, ci sono già prenotazioni per la settimana di Pasqua? Non solo per Pasqua, ma anche per le settimane successive, tipo per il ponte del 25 aprile e del primo giugno. Mattinata è una destinazione turistica ambita durante tutti i mesi dell'anno. Noi crediamo in questa extra stagionalizzazione e come amministrazione abbiamo puntato molto nella valorizzazione e promozione del nostro territorio a livello nazionale e regionale con le partecipazioni alle fiere, ma crediamo anche che l'obiettivo della extra stagionalizzazione possa essere raggiunto solo con il supporto e l'ausilio degli operatori turistici. Devo dire che in questi mesi gli operatori turistici si sono schierati al nostro fianco e i risultati si vedono. Si vedono perché negli eventi di primavera, come Orchideis, che avrà inizio il 22 e terminerà il 25 aprile, sono previste tantissime presenze qui a Mattinata e tantissimi utilizzatori delle strutture ricettive. E una tartare di manzo con lime. E da bere? Cosa ci consiglia? Andrei senz'altro su una QP del 2026. Va bene. È buonissima. Quello che non preso loro. Scusi, scusi. Sì.